Ve l'ho detto, puntata veramente molto piena quest'oggi, quindi un'altra di quelle puntate in cui sono un po' spietato con la musica, così abbiamo tutto il tempo per ragionare sui vari temi della giornata. Sono le 8 e 41 minuti, siete all'ascolto o alla visione di RBA, ma in particolare di Play, la trasmissione di informazione mattutina. E prendiamo molto alla larga quest'oggi il racconto delle notizie classiche, insomma sapete che ogni puntata, ogni mattina vi racconto l'orrore che sta succedendo a Gaza e in Medio Oriente e arriveranno anche le notizie puntuali di ultimo minuto, quelle sono importanti, ma altrettanto è importante provare a ragionare di quello che manca da quelle parti, ovvero appunto un processo per la pace, un processo per il cestato e il fuoco, senz'altro non con l'abbrivio di cui avremmo bisogno. Per questo è stata lanciata una sorta di appello da Rete Pace e Disarmo per mobilitarsi in questi giorni, nel corso, insomma, ci siamo già dentro, alcuni eventi vedo che si tengono già quest'oggi, ma insomma oggi, domani, nel corso del fine settimana, chiunque voglia partecipare può mettersi in contatto e in ogni caso scendere in piazza e manifestare la voglia, insomma, di raggiungere la pace, tra l'altro non soltanto a Gaza, ma insomma ho già fatto un preambolo sufficientemente lungo per parlarne un po' meglio, accogliamo con molto piacere ancora una volta per Rete Pace e Disarmo, Francesco Vignarca, ciao intanto, bentornato. Ciao, buongiorno a voi, ciao, ciao, grazie. Allora, ci dicevamo, Furion, insomma, che mi raccontavi che siete un po', come dire, in affanno, in senso buono, perché state ricevendo davvero tantissime richieste di adesione, non richieste, insomma, comunicazioni di adesione, noi, tra l'altro, come Radio e come Radio TV saremo presenti domani sera a Pinerolo, ad una fiaccolata qui a Pinerolo, che è legata proprio a questo evento, ma ce ne sono tantissimi altri e mi dicevi, appunto, ne riceviamo talmente tanti che stiamo facendo fatica a completare il nostro elenco, che da un lato è una buona notizia, dall'altro apre un po' la domanda, come mai in questo momento c'è questa esplosione, termine, insomma, discutibile, ma insomma si sta allargando così tanto questa consapevolezza? Io credo che le dinamiche siano due, da un lato ricordiamoci che questa giornata è stata lanciata un mese fa, proprio perché il 24 febbraio è l'anniversario, il secondo anniversario dell'invasione russiana-ucraina, quindi noi ci ricordiamo, noi abbiamo memoria di tutte le guerre, di tutti i conflitti, e nel documento non si parla solo di Ucraina, non si parla solo di Palestina, Israele, e quindi la situazione drammatica di Gaza, si parla di tutte le guerre in giro per il mondo, troppo spesso ignorate, si parla dell'Africa in particolare, di altre zone di tensione, di altre parti del Medio Oriente che sono comunque martoriate, pensiamo alla Siria, pensiamo allo Yemen. Ecco, questo vuol dire che c'è un lavoro che continua, è un lavoro che le coalizioni Euro for Peace sulla pace in Europa e non solo, e assisi pace giusta proprio sul Medio Oriente, hanno portato avanti da tempo. La mobilitazione di questo weekend è figlia delle mobilitazioni che già ci sono avute sia come manifestazioni nazionali, sia come giornate diffuse sul territorio. Questo è un aspetto. Poi l'altro aspetto ovviamente è la recrudescenza della situazione a Gaza, la drammaticità di milioni di persone intrappolate, spinte negli angoli della striscia, senza la possibilità data dal governo israeliano di un accesso continuativo a cibo e acqua, ovviamente fanno crescere ulteriormente questa volontà e necessità di mobilitarsi. Però io credo che sia importante anche davvero non avere solo la memoria del pesce rosso, di quello che sta succedendo adesso al massimo ieri. Tutta questa mobilitazione, tutta questa voglia di scendere in piazza a gridare la necessità della pace, non sarebbe stata possibile se non ci fosse stato il lavoro preventivo delle nostre reti, delle nostre coalizioni che continuano quotidianamente, al di là dei momenti di manifestazione e mobilitazione, a lavorare per la pace. E questo è fondamentale da sottolineare, perché altrimenti non si capisce, no? Sembra una cosa estemporanea. No, è davvero incredibile che avremo più di 100 città, sicuramente più di 120 in questi giorni, a chiedere che si fermino le guerre, che si fermi la follia delle guerre, ma questa cosa non sarebbe spiegabile o non sarebbe possibile davvero se non ci fosse un lavoro quotidiano. E questo va sottolineato. Esatto, sì, è un po' come se ci ricordassimo dei pacifisti un po' a spot, quando invece il lavoro è continuato e prosegue. E tra l'altro la Movera del Pesce Rosso io comunque l'abbino anche all'Ucraina, nel senso che forse ci eravamo un po' abituati ad un conflitto congelato, dove non succedeva granché, sostanzialmente le parti erano ferme. Tutt'altro, insomma, se si vanno a cercare le notizie, la situazione è purtroppo diversa. Ci puoi fare un po' uno sguardo quindi di che cosa ci aspetta in questi giorni? Insomma, gli eventi sono di vari tipi, ci saranno anche ad esempio presentazioni di libri legati alla questione. Insomma, ci puoi dare qualche spunto giusto per farci capire un po' che cosa sta per succedere? Sì, devo dire che anche questo è molto bello perché sulla base di quello che è il documento di convocazione collettivo, abbiamo dato ampio spazio e libertà alle singole organizzazioni locali che già stanno in rete, già hanno creato dei coordinamenti negli ultimi mesi, di decidere loro cosa volessero fare. Fiaccolate, cortei, sit-in, momenti di silenzio, in alcuni casi ci sono delle catene umane su dei ponti, con l'idea del ponte come un'idea di pace, in altri casi ci sono momenti di approfondimento, conferenze. Ecco, questo è significativo perché fa capire che non siamo di fronte a una mobilitazione quasi calata dall'alto, quasi automatica, cioè pavloviana mi viene da dire. Ti chiedo di farlo, tu esci, fai il tuo compitino, poi riponi le bandiere, le pieghi e le metti via. No, c'è la voglia di trovarsi insieme in uno stesso momento, in uno stesso ambito che richiude tutti e racchiude le proposte di tutti in questo documento, ma c'è la voglia di essere anche creativi e di non astrarsi da quelli che appunto sono i percorsi, comunque che i gruppi, i coordinamenti territoriali portano avanti e che fanno anche al di là del momento di mobilitazione nazionale, che certo è più visibile perché tutti insieme lo si fa nello stesso weekend e c'è un calendario comune e c'è quindi la possibilità di dire che tutto questo succede in maniera concertata. Ma proprio come in un concerto, proprio come in una sinfonia, ciascuno suona il proprio strumento e il proprio strumento lo suona perché è in continuità con quello che già si fa. Per cui credo che anche questo vada colto, proprio perché in realtà, come già accennavi tu, la grande comunicazione invece va per spot, non si ricorda dell'elemento principale che noi dall'inizio di tutti i conflitti diciamo le persone, le vittime, coloro che stanno sotto le bombe e quindi ragiona in termini di solo notizie strategico-militari o notizie politiche spesso piegate in maniera strumentale ad altre motivazioni, in particolare in queste settimane vediamo che tutte le notizie sono focalizzate a giustificare l'aumento di spesa militare, ad esempio. Fatemi fare questa battuta che sto facendo in questi giorni nelle mie conferenze, in questo periodo abbiamo la Russia di Schrödinger, come il gatto di Schrödinger nell'idea di fisica quantistica perché o è potentissima che addirittura fra tre anni ci potrebbe invadere e quindi dobbiamo armarci oppure talmente debole che sta per crollare e quindi bisogna armare l'Ucraina perché sta per crollare e quindi ci sarà la vittoria e non funziona così, cioè o è l'uno o è l'altro, dicono sempre a noi che siamo quelli non realisti invece gli irrealisti e i naif mi sembra che siano coloro che favoriscono la guerra e invece è uscito un sondaggio di YouGov proprio in queste ore sulla popolazione europea che dice che fondamentalmente siamo a livelli infinitesimali per l'ipotesi di vittoria ucraina almeno quello che riguarda l'opinione pubblica ed è drammatico, drammatico per gli ucraini in primis che si sono visti invadere e che si sono visti in un certo senso ammagliare da delle possibilità che non sono realistiche e invece non vedono la pace e il rischio è di una guerra di frizione ecco, noi dobbiamo anche in questi contesti di manifestazioni non solo ribadire le nostre proposte ma anche ribadire un altro tipo di informazione e quindi ringrazio anche voi che ci aiutate a farlo Assolutamente, grazie a voi per raccontarlo mentre mi parli mi viene anche in mente un altro elemento in tutto questo cioè che appunto noi leggiamo le notizie di strategia, le notizie politiche eccetera eccetera queste notizie politiche, concentriamoci ad esempio su Gaza che già è abbastanza un problema anche solo intellettuale enorme sembra che stia cambiando qualcosa si è passati dal supporto totale assoluto nei confronti di chi vuole devastare la striscia di Gaza ha invece posizioni un po' diverse io un po' sospetto che fra le tante motivazioni la pressione dell'opinione pubblica sia uno dei motivi di questo cambiamento penso ad esempio al Regno Unito che sembra essere particolarmente avanzato da questo punto di vista nel ragionamento e non a caso nel Regno Unito ci sono state manifestazioni molto imponenti in questo senso perché non c'è stato il fuoco quindi come dire scendiamo in piazza certo per la nostra coscienza ma l'effetto ci può essere molto concretamente assolutamente per questo bisogna iscrivere le manifestazioni all'interno di percorsi e ciascun paese, ciascun movimento ha un proprio punto di vista e ha una propria situazione noi avendo lavorato negli ultimi anni tantissimo sui territori abbiamo preferito in questa fase poi magari si faranno altre cose non sto dicendo che non si faranno questa fase valorizzare questo proprio perché le manifestazioni non devono essere fine a se stesse cioè l'obiettivo non è manifestare la manifestazione è uno strumento di pressione sulla politica rende evidente quello che è un posizionamento di una larga fetta dell'opinione pubblica e se lo rende evidente in maniera intelligente e efficace fa capire che a dire no alla guerra e a dire attenzione bisogna fermarsi non sono solo le organizzazioni nostre che potrebbero essere bollate come i soliti pacifisti tanto è il loro lavoro no, noi stiamo esprimendo quello che è una posizione più allargata l'altro giorno un altro sondaggio relativo all'Italia dimostrava che meno del 18% degli italiani è d'accordo con un sostegno totale a Israele no matter what cioè fate quello che volete e noi comunque ci siamo e quasi il 70% chiede che si sia l'imposizione di un cessato il fuoco cioè non solo vorremmo un cessato il fuoco ma che la comunità internazionale Europa, Stati Uniti, Nazioni Unite impongano un cessato il fuoco cioè dicono adesso si fa così perché non è più tollerabile allora è chiaro che la politica che su questo, sui temi della pace secondo me è slegatissima rispetto al sentire dell'opinione pubblica dell'elettorato e questo dovremmo fare poi una riflessione anche sulla qualità della nostra democrazia perché se è vero che non siamo in una democrazia diretta in cui si governa a colpi di sondaggio è anche vero che non è possibile pensare che così tanta parte degli italiani non vuole l'aumento delle spese militari non vuole l'invio di armamenti non vuole l'export di armi non vuole che ci sia guerra e invece le decisioni del governo vanno in un'altra direzione non partecipa ai dialoghi sul diasermo nucleare decide di cambiare la legge sull'export delle armi aumenta le spese militari di ieri la notizia dell'ok della commissione di difesa della camera a 8 miliardi di euro per i nuovi carri armati allora questa cosa dobbiamo raccontarla anche dobbiamo capire perché non funziona questa cinghia di trasmissione ma intanto è evidente che ci sia un posizionamento diverso e questo piano piano gutta cavat lapidem dicevano i latini può spostare le posizioni e le abbiamo visto in Italia in queste settimane la notizia di qualche giorno fa della mozione votata in Parlamento che se vogliamo non è quella che vogliamo noi non è sicuramente ma è già un cambiamento di posizionamento che non è ancora efficace del tutto che noi vorremmo fosse maggiormente efficace ma che fa capire la pressione ieri Rete Pace Disarmo insieme a Amnesty International Italia insieme a Oxfam Italian e Aoi che è l'associazione delle leggi italiane ha diffuso un nuovo documento di richiesta di stop di tutte le forniture di armamenti così come è stato fatto a livello internazionale abbiamo chiesto anche noi è vero il governo già per esempio ha fatto un passo avanti inaspettato aveva già sospeso le nuove autorizzazioni verso Israele dal 6 ottobre in poi chiediamo adesso che ci dica chiaramente che ha sospeso anche l'invio dei vecchi materiali già autorizzati ma sono tutti segnali magari ancora poco certamente preferiremmo che ci fosse una presa di posizione internazionale molto forte ma il nostro mestiere e il nostro lavoro e non dico come rete dico in generale come momenti di parte civista è premere sulla politica affinché cambi le proprie decisioni in una linea di costruzione della pace questo è sicuramente vero esatto sono piccoli passi che però ci fanno capire che c'è gioco e che quindi si può aumentare ulteriormente la pressione allora come vi dicevo non vi stiamo parlando di un evento unico ma di una per fortuna lunghissima lista di eventi se non siete ancora a conoscenza di qualche incontro appuntamento dalle vostre parti intanto credo siete ancora in tempo per metterlo su magari all'ultimo secondo contattando proprio rete italiana pace e disarmo o magari invece non sapevate che dalle vostre parti c'è effettivamente già organizzato un qualche evento e la lista la trovate sempre sul sito rete pace e disarmo una lista che come vi dicevamo in via ancora di definizione perché man mano che arrivano le adesioni le si aggiunge insomma le possibilità sono tante davvero eventi in maniera capillare io lascio Francesco Vignarca che appunto sta correndo dietro tutti questi appuntamenti grazie a noi mille davvero come sempre in bocca al lupo e alla prossima grazie a voi a presto ci vediamo adesso un breve momento di pause ritorniamo con le altre notizie del giorno grazie a tutti